Ciao a tutti, in questo video parliamo del tessuto nervoso e della struttura e del funzionamento delle cellule che lo formano. In passato abbiamo già studiato i tessuti fondamentali del corpo umano, abbiamo studiato i tessuti epiteliali, che sono quelli di rivestimento, il tessuto muscolare, di cui riparleremo perché è strettamente collegato al nervoso, e i vari tipi di tessuto connettivo. Abbiamo però fatto solo un'introduzione molto rapida al tessuto nervoso, in quanto avendo una struttura ed un funzionamento decisamente più complesso, viene rimandato alla parte conclusiva del corso. Si tratta di un tessuto, qui ne vediamo un bellissimo disegno, bene, che in qualche modo ci introduce la sua complessità. Si tratta di un tessuto formato da cellule altamente evolute, altamente specializzate, e questo perché le strutture corporee da cui è formato, ovvero il sistema nervoso nel suo complesso, hanno delle funzioni veramente molto particolari. Il sistema nervoso, infatti, ha come funzioni principali la coordinazione e il controllo. Ha delle appendici, come delle finestre rivolte verso l'esterno, le quali sono gli organi di senso, tramite cui è in grado di percepire l'ambiente in cui viviamo, nella sua grande varietà di stimoli che ci presenta. Inoltre è in grado di integrare e mettere insieme questa varietà di stimoli in modo da poterli interpretare e collegare tra di loro. Le cellule, infatti, che lo formano, come vedremo, comunicano tra di loro in modo da elaborare delle risposte agli stimoli che provengono dall'ambiente esterno ma anche da quello interno e che vengono ad alta velocità ed efficienza trasmesse agli organi che metteranno in atto la risposta. Dal momento che spesso e volentieri la risposta ad uno stimolo interno-esterno è costituita da un movimento, gli organi a cui viene dato l'ordine finale dal sistema nervoso sono dei muscoli, ma possono essere anche degli organi di altro tipo, ad esempio delle ghiandole. Ricordiamo che anche le funzioni involontarie, ovvero quelle che non sono sotto il nostro controllo cosciente, sono comunque regolate e avvengono comunque su ordini impartiti dal sistema nervoso. Prima di vedere come è fatta la cellula nervosa, vediamo come si presenta in questa bella immagine colorata artificialmente il tessuto nervoso al microscopio ottico. Ecco, già vediamo, prima ancora di vedere lo schema, il disegno della cellula nervosa, ecco già vediamo che si tratta di qualcosa di facilmente riconoscibile, molto diverso dagli altri che abbiamo visto e vi mando anche ai vari video sul corpo umano. Intanto vediamo che le cellule che lo formano hanno una forma diciamo molto particolare, diversa dalle altre, hanno una parte tondeggiante e poi hanno dei prolungamenti più o meno sottili, i quali si collegano poi gli uni agli altri formando una rete che qui vediamo piatta in sezione, ma che in realtà è una rete tridimensionale molto complessa. Questo perché le cellule nervose, dette anche neuroni, sono cellule la cui funzione principale è quella di comunicare, vedremo in che modo, tra di loro. Di conseguenza, dato che in biologia ogni struttura assume la forma più adatta alla sua funzione, quella più adatta per una cellula di questo tipo è quella ramificata, perché una forma ramificata consente ad una cellula nervosa di stabilire più contatti possibili con quelle che ha intorno. Abbiamo detto quindi una cellula molto particolare ed estremamente specializzata. Si tratta di una cellula differenziata in maniera terminale, ovvero che non è più in grado di riprodursi, per cui un neurone danneggiato è irrimediabilmente perso. Perso per sempre. Per questo motivo, come vedremo, queste cellule sono situate in collocazioni piuttosto protette. Come detto, dato che la principale esigenza di un neurone è quella di comunicare, ovvero di entrare in contatto con il maggior numero possibile di altre cellule nervose, questa è una forma il più possibile adatta a questa particolare funzione, ovvero quella, come già si è detto e visto, e lo vediamo meglio ancora in questo schema, ramificata. Una cellula nervosa, come vediamo in questo disegno, è composta da tre parti. Abbiamo una zona tondeggiante, il cosiddetto corpo cellulare, che ha una forma grossomodo sferica, il quale contiene il nucleo e tutti i vari organelli già visti della cellula. Dopodiché questo corpo cellulare, la seconda zona a partire da sinistra, presenta delle appendici ai due poli opposti. Da un polo del corpo cellulare, rappresentato a sinistra, partono una serie di sottili ramificazioni a forma di albero, dette dendriti. Questo termine un po' complicato deriva da una parola greca che per l'appunto significa albero. Dall'altro polo del corpo cellulare, quindi vediamo sulla destra, parte un prolungamento sottile ma piuttosto lungo, anche lungo parecchi centimetri, che viene chiamato assone e che costituisce la vera e propria fibra nervosa. Quindi quando parleremo di fibre nervose, parleremo proprio di questa zona allungata e sottile della cellula nervosa. Quindi assone e fibra nervosa sono sinonimi. Poi andando all'estrema destra dello schema, questo assone, questa lunga fibra, pone la sua estremità terminale, a sua volta si ramifica. Da un punto di vista funzionale, ecco apriamo questo schema, le caratteristiche principali di una cellula nervosa sono due, che sono l'eccitabilità e la conducibilità. Che cosa si intende per eccitabilità e conducibilità? L'eccitabilità, come possiamo leggere direttamente, è la capacità dei neuroni di subire un cambiamento in presenza di uno stimolo, che può venire dall'esterno, dall'ambiente interno, oppure può venire anche da un altro neurone. I neuroni, come vedremo, all'arrivo di uno stimolo subiscono dei cambiamenti, i quali sono di natura elettrica. Bene, il linguaggio in cui comunicano tra di loro, possiamo già dirlo, è quello delle correnti elettriche. Non solo subiscono dei cambiamenti all'arrivo di uno stimolo o di un ordine di un altro neurone, ma sono anche in grado di elaborare una risposta adeguata all'intensità e al tipo di stimolo ricevuto. La seconda caratteristica, visto che si parla di cellule ad attività elettrica, è la conducibilità, che è la capacità dei neuroni di ricevere i segnali in arrivo, che sono di tipo elettrico, e trasmettere i messaggi in partenza sotto forma di impulsi elettrici, che viaggiano a grande velocità lungo le fibre nervose, che possono essere lunghe anche parecchi centimetri, e che, come vedremo, si possono anche trasmettere da un neurone all'altro, visto che formano spesso e volentieri anche delle reti piuttosto complesse. Come vedremo, queste correnti si generano perché, a cavallo della membrana di un neurone, all'arrivo di uno stimolo si crea una corrente dovuta a delle particelle cariche, che non sono elettroni, come nei metalli che trasmettono la corrente nelle nostre case, ma sono delle particelle cariche legate agli elementi sodio e potassio, che nel loro movimento danno luogo a delle correnti elettriche. Affinché la trasmissione di queste correnti sia la più efficiente possibile, e perché non si verifichino perdite di particelle cariche attraverso la membrana, ricordiamo che la membrana plasmatica è grossomodo isolante, perché è di natura grassa, ma è molto sottile e presenta poi delle aperture, allora, nella stragrande maggioranza dei neuroni, gli assoni, cioè le fibre, come vediamo qui sulla destra, sono avvolti da ulteriori strati di materiale isolante, che nel loro complesso formano la cosiddetta guaina mielinica, la quale ha la stessa funzione del rivestimento di plastica isolante attorno ai fili elettrici di metallo. Da cosa è formata questa guaina mielinica? È formata da particolari cellule di supporto, che si chiamano cellule di Schwann, che eliminano il loro citoplasma e avvolgono più volte a spirale la loro membrana attorno all'assone di un neurone provvisto di guaina. Questo così, questo assone, come vediamo, a sinistra e nel dettaglio a destra, si divide, si trova ad essere diviso in una serie di tratti, ciascuno avvolto dalla propria cellula di Schwann a volta a spirale, che gli fornisce un rivestimento isolante. Ricordiamo che, infatti, come detto prima, i grassi che formano le membrane cellulari sono pessimi conduttori, quindi gli assoni mielinizzati si rivestono di ulteriori strati di membrane cellulari isolanti. Tra un tratto e l'altro della guaina, come vediamo, ci sono dei piccoli spazi in cui l'assone risulta scoperto. È importante che ci siano questi spazi che si chiamano nodi di Ranvier, perché nei neuroni provvisti di questo rivestimento isolante le correnti elettriche si muovono saltando da un nodo all'altro. Quindi nei neuroni provvisti di guaina mielinica i segnali elettrici si trasmettono in maniera ancora più veloce rispetto a quelli che sono una minoranza e che non sono provvisti di guaina mielinica. Ci fermiamo un attimo e vediamo un bel video, vediamo una bella animazione che ci fa vedere quanto sono complesse queste reti tridimensionali di neuroni. Ecco, questo è quello che vedremmo diventando piccoli e potendoci immergere all'interno di una zona come il cervello, che è la zona principale del nostro sistema nervoso. Chiaramente l'anatomia e le varie parti le vedremo in un video successivo. Ecco, vediamo, qui c'è una cellula di supporto, tra poco vedremo cosa sono brevemente, e vedete tutti questi neuroni con la loro guaina mielinica, quindi con le varie cellule, abbiamo detto di Schwan, che lasciano i nodi liberi e tutte quante le varie ramificazioni che vediamo in questa bella animazione in 3D. E vediamo anche i punti di contatto, vedremo tra un po' che cosa succede perché è molto importante. I neuroni sono tutti interconnessi tra di loro, a livello di reti piuttosto complesse. Ecco, questo è uno zoom all'interno di un neurone, il corpo cellulare ospita il nucleo, qui vediamo un mitocondrio, vediamo tutti gli organelli, ma sappiamo che è una cellula completa e anche piuttosto complessa. Vediamo, ecco, qui vediamo praticamente il processo che porta una di queste cellule, una di queste cellule di Schwan, a trasformarsi in guaina mielinica. Vediamo che una cellula inizia a, diciamo, presentare una rientranza con cui avvolge la fibra nervosa, dopodiché piano piano conserva solo il nucleo, elimina il citoplasma e comincia, vedendo sulla destra, a dar luogo a tutti questi avvolgimenti a spirale che formano la guaina mielinica. Lo vediamo anche in questo caso con un'animazione. Quindi queste sono delle cellule di sostegno che si sacrificano per assumere l'unica funzione di formare questo strato isolante che rende più rapida la trasmissione del segnale elettrico all'interno dei neuroni. E questo è importante per avere una risposta rapida, ad esempio un movimento quasi immediato all'arrivo di uno stimolo, oppure quando prendiamo una decisione a livello cerebrale. Le cellule di Schwan, ma questa prossima slide la vediamo proprio molto brevemente, rappresentano praticamente uno dei vari tipi di cellule di supporto che troviamo nel tessuto nervoso, il quale non è fatto soltanto da neuroni, ma è fatto da neuroni più tutta una serie di altre cellule che prendono il nome di neuroglia, le quali danno sostegno e svolgono funzioni particolari. Ecco, di queste non le vediamo ovviamente tutte, le cellule di Schwan in basso a sinistra. Ecco, interessanti sono gli astrociti, detti così perché sono cellule stellate, non con fibre allungate ma con questa forma ramificata anche loro, che provvedono al nutrimento, cioè prelevano i materiali nutritivi dai vasi sanguigni che passano nel tessuto nervoso e poi li trasferiscono ai neuroni. Questo è interessante e ci manifesta ancora di più la protezione di cui godono i neuroni, i quali non attingono direttamente al sangue e sono le uniche cellule, bene, che fanno questo perché altrimenti potrebbero essere danneggiati da sostanze nocive che sono presenti nel sangue. E allora prelevano i materiali dal sangue non direttamente ma tramite queste ulteriori cellule che così selezionano in qualche modo i materiali da trasferire ai neuroni e quelli che invece vanno scartati in quanto potrebbero essere nocivi. Ora, finora abbiamo visto come le correnti elettriche tramite cui i neuroni comunicano si propaghino all'interno di un singolo neurone. Ma come fanno a trasmettersi da un neurone all'altro per tutta la lunghezza dei circuiti e reti elettriche che i neuroni formano tra di loro? Ora, tolto qualche caso particolare, tra un neurone e l'altro, e qui vediamo il punto di contatto che non è un vero contatto in quest'immagine tra due neuroni, ecco vediamo che tra un neurone e l'altro non c'è una continuità fisica. Il terminale dell'assone di un neurone e l'inizio del neurone successivo sono separati da uno spazio sottile che si chiama spazio sinattico o sinapsi. All'interno di questo spazio non possono passare le cariche elettriche, quindi le cariche elettriche, le correnti elettriche non possono passare in maniera diretta da un neurone all'altro. Però per elaborare risposte complesse serve, abbiamo detto, una comunicazione a più neuroni, quindi le correnti non si possono neanche fermare quando termina un neurone. E allora, a livello di questa zona, di questo spazio che si chiama sinapsi, cambia il tipo di comunicazione, che da elettrica diventa chimica. Infatti, nelle ramificazioni terminali degli assoni, nella parte alta, vediamo che sono presenti sotto la membrana plasmatica delle piccole cavità contenenti sostanze chimiche, le quali si chiamano neurotrasmettitori. Ne esistono vari tipi con effetti diversi. Quando la corrente elettrica giunge alla fine del neurone, queste piccole cavità, tra poco vedremo un'animazione, si fondono con la membrana del neurone e liberano questa sostanza, questo neurotrasmettitore. Lo vediamo sotto forma di palline scure nell'immagine all'esterno, proprio nello spazio della sinapsi. Questo si lega ad alcuni recettori presenti nel neurone successivo. Queste sono delle proteine che sono fatte a forma di tubo, attraversano la membrana, a forma di tubo che si apre e chiude, e quindi fanno entrare queste particelle cariche che faranno ripartire la corrente elettrica e quindi propageranno il segnale anche nel neurone successivo della rete. E questo, diciamo, il processo così si ripete da capo fino a che il circuito neuronale arriva alla fine. E dov'è che va a finire? Ad altre cellule che rispondono a segnali elettrici come quelle muscolari, bene, a cui può venire dato l'ordine di contrarsi oppure di rilassarsi, o cellule di altro tipo. Vediamo adesso un'altra animazione che ci presenta tutto questo bel processo di cui abbiamo parlato. Ecco, la sinapsi la vediamo alla fine. Intanto questo lampo rappresenta la corrente elettrica che si sta trasmettendo nella fine, che si sta trasmettendo lungo la fibra. Ecco, questi tubi che rappresentati in vari colori sono quelle proteine che si aprono e chiudono, bene, quando arriva la corrente elettrica, amplificandola, cioè facendo entrare ulteriori particelle cariche, bene, all'interno della fibra nervosa. Vediamo che sono a cavallo della membrana. Quindi in basso vediamo l'interno della cellula. Bene, ecco, adesso si vede ancora meglio l'interno della fibra con questi canali che si aprono e chiudono facendo entrare questi ioni o particelle cariche di sodio e di potassio. Ecco, vediamo adesso che cosa succede alla sinapsi. Vediamo che lo spazio è molto, molto ridotto, però qui è necessario l'intervento di una sostanza chimica per trasmettere il segnale elettrico all'altro neurone, perché attraverso lo spazio abbiamo detto queste particelle cariche o ioni non possono passare. E allora adesso vediamo queste piccole cavità vescicole. Vedete, si fondono con la membrana, liberano questo neurotrasmettitore nella sinapsi e questo neurotrasmettitore si lega a questi tubi, queste proteine. Adesso vedremo che si apriranno e queste particelle cariche soprattutto di sodio, che sono le principali responsabili delle correnti dei neuroni, entrano dentro e fanno partire la corrente elettrica anche nel neurone successivo. E così in tutti quelli dove dovrà passare del circuito di neuroni in esame. Quindi vediamo che un'organizzazione è un funzionamento veramente molto complesso che ho cercato di semplificare al massimo. Adesso che cos'altro vediamo? Ecco, vediamo ancora un'immagine, dato che si è parlato di circuiti, di reti, di neuroni. Occorre distinguere tra i tre tipi principali di neuroni in base alla loro posizione. A sinistra vediamo i neuroni cosiddetti sensoriali o dafferenti, i quali ricevono le informazioni direttamente dall'ambiente esterno o dagli organi di senso interno. Quindi se ci fermiamo soltanto agli organi di senso, cioè alle strutture come l'occhio, l'orecchio e gli stimoli dell'ambiente esterno, possiamo dire che questi neuroni sensoriali trasmettono l'impulso, la corrente elettrica, dalla periferia verso il centro dove verranno letti e interpretati. Al centro dell'immagine vediamo un esempio di neurone motore, detto anche efferente, che trasmette la corrente in senso contrario. Sono quelli situati a valle che danno materialmente l'ordine agli organi che effettuano la risposta, cioè i muscoli che si contraggono oppure anche delle ghiandole che possono produrre determinate sostanze in base a ordini impartiti dai neuroni. Quindi la corrente elettrica in questi neuroni motori si trasmette dal centro verso la periferia. Il terzo tipo sono i cosiddetti neuroni associativi o interneuroni che si trovano nelle parti intermedie dei circuiti, quindi non sono a contatto con cellule di altro tipo ma soltanto con altri neuroni. E in quest'altra immagine vediamo il tipo di risposta. Vediamo che le sinapsi non si formano soltanto tra neurone e neurone ma quelli che sono più a valle, quelli terminali, le formano con cellule muscolari che sono anche loro cellule sensibili agli stimoli elettrici e che quindi si contraggono in risposta all'arrivo di correnti. Oppure in basso vediamo anche a cellule di tipo ghiandolare. Ora la parte successiva del video è dedicata ad un approfondimento, nel senso che la parte possiamo dire importante, fondamentale, termina qui. Chi non è interessato al seguito può anche terminare qui la visione del video. Per chi vuole andare avanti c'è un approfondimento che in qualche modo ci fa vedere come si producono queste correnti e però richiede, questo già lo dico da ora, qualche conoscenza di chimica, di come sono distribuiti gli elettroni attorno a un atomo e qualche conoscenza sull'elettricità, cosa vuol dire differenza di potenziale e come viene prodotta una corrente elettrica. Quindi a titolo di approfondimento quest'ulteriore breve parte del video. Allora, intanto questo rappresenta, ecco qui vediamo, i due atomi che sono responsabili delle correnti elettriche e di quello che succede in una cellula nervosa. I due elementi chimici coinvolti sono il sodio e il potassio. Questi due elementi hanno una particolarità se vediamo come sono distribuiti gli elettroni. Cioè nell'ultimo guscio, quello più esterno, hanno entrambi un solo elettrone. Vedete, nello strato esterno del sodio c'è un solo elettrone, in quello del potassio anche ce n'è uno. Di conseguenza questi elementi tendono a perdere quest'elettrone, che è negativo, quindi gli rimane un eccesso di carica positiva e quando hanno perso questo elettrone diventano ioni sodio e ioni potassio, i quali sono delle particelle che hanno una carica positiva e che quando si muovono si spostano danno luogo ad una corrente elettrica. Ora qui vediamo come sono distribuiti normalmente quando i neuroni non sono stimolati. Ci concentriamo sull'immagine in alto che è una fibra che non ha la mielina intorno e normalmente succede che gli ioni sodio sono più abbondanti all'esterno della cellula, quelli potassio all'interno. Non solo, ma la membrana cellulare si comporta come una batteria. Ci accumula cariche negative all'interno e cariche positive all'esterno. Bene, possiamo considerare la parte interna della cellula a contatto con la membrana come il polo negativo di questa batteria che forma la membrana stessa e la parte di ambiente esterno direttamente a contatto con essa come polo positivo. Quando arriva lo stimolo, si aprono questi canali, queste proteine, il sodio positivo entra e quindi avviene un'inversione dei due poli. È la parte interna che diventa positiva. Questo è lo stimolo che fa partire il cosiddetto potenziale d'azione e che dà luogo alla corrente positiva che si trasmette lungo la fibra. Sopra vediamo una fibra senza mielina, quindi a conduzione lenta, perché questa corrente si deve propagare per tutti i vari tratti a contatto, quindi qui la conduzione è piuttosto lenta. In basso vediamo invece il vantaggio di una fibra rivestita da mielina, perché in questo caso la conduzione procede per salti da un nodo all'altro, cioè quelle piccole porzioni, come abbiamo detto, che rimangono scoperte e quindi il potenziale d'azione e la corrente quindi che ne deriva si trasmettono in maniera molto più rapida. Se questo video vi è piaciuto, se l'avete trovato interessante, iscrivetevi al canale, commentate, condividete e guardate tutti gli altri video. Alla prossima!